L'ho rivisto tante, però guarda, dopo un po' d'anni che io ero, come dire, infezione, e quindi non ho potuto scoprire anche la mia attività artistica. Credimi che i miei problemi di salute si sono, inizialmente, tantissimi. Io nel momento che ho visto le dimensioni, cioè veramente, dei problemi ho sentito, che io sono un po' di vita, però io non li collegavo al lavoro, intanto che magari ho sentito una situazione che per me non era l'atto, perché mi sono essendo un uomo, allora mi dici che io vengo con nessuna, chiaro no, quali condizioni? Tu sei presa quel mattino? Vuoi dire, hai ragione? Quel mattino sei presa? Io non ho chiuso un posto con me, non ho chiuso, non ho chiuso, non ho chiuso. Ma in fine sì, sì, è in ufficio, sono nore, ma io non ho chiuso. Io penso una cena, però a parte la cena, nel senso che devo preparare qualcosa verso...